Per 70 anni hanno dormito con un arsenale da guerra sistemato in uno scotolone nel controsoffitto della camera da letto. Se ne fossero meno consapevoli non sarà ormai possibile stabilirlo, visto che i padroni dell'appartamento sono scomparsi negli anni scorsi, ma ragionevolmente è difficile da credere che fossero a conoscenza di bombe e proiettili a poca distanza da loro. In tutto, almeno per quanto venuto improvvisamente alla luce, 5 bombe SRCM della Breda in dotazione all'esercito italiano e diverse cartucce per fucile bellico. La scoperta è avvenuta casualmente in un appartamento al primo piano di un'abitazione in pieno centro di Capodorlando a pochi metri di distanza da piazza Matteotti. L'edificio, ubicato tra la via Volta e la via Piave, era disabitato da tre anni. A risiedervi dal 1935 i coniugi raneri, proprietari di un'edicola che si trova a pianano terra. Da qualche giorno i figli della coppia hanno deciso di procedere alla ristrutturazione dell'edificio e per questo erano iniziati i lavori di demolizione del soffitto, realizzati in tegole con una parte sottostante fatta di canne ed in tonaco. Proprio quando il controsoffitto è ceduto tra i calcinacci c'era uno scatolone di cartone. Quando i muratori hanno preso tra le mani uno degli oggetti contenuti, si sono accorti della presenza delle bombe, tutte in perfetto stato di conservazione. Un operaio, per la paura, ha scagliato un ordigno lontano e si è dato alla fuga facendo scattare l'allarme. Ovviamente la bomba a mano non poteva esplodere, in quanto dotata di doppia sicura, sia la spoletta che l'innesco, che si attiva automaticamente in fase di caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coordinati dal maresciallo Innocenzo Guerino, che dopo un primo sopralluogo hanno evacuato l'edificio di interdetto al transito a un tratto di via Volta, in attesa che gli ordigni siano prelevati dagli artificieri. Non è escluso che nella parte di controsoffitto rimasta possano esserci altre bombe. Le bombe a mano sono ancora oggi usate dal nostro esercito, ma entrarono in servizio nel 1935, proprio all'anno di costruzione della casa, e vennero massicciamente usate durante la Seconda Guerra Mondiale. Proprio in quel periodo, probabilmente da militari in fuga dopo lo sbarco degli americani, vennero lasciati in quella casa che li ha custoditi per 70 anni.